Salve, sono Fabio Baruzzo e sono qui con Giovanni Sardo, presidente di Panta Musica, APS, amici della musica d'Imperia. Innanzitutto desidero ringraziare la RAI per averci concesso questo spazio e tutti voi che ci ascoltate. Giovanni, dimmi, quando e perché è nata l'associazione Panta Musica? L'associazione è nata più di 25 anni fa per dare più iniziative di carattere musicale, è nata da un'associazione tra musicisti, professionisti e appassionati di musica. La nostra idea è attraverso la musica di aiutare le persone sia in maniera pratica che anche soltanto con l'ascolto, infatti il nostro motto è appunto è da zero all'infinito. Da zero anni all'infinito? Sì, perché intendiamo la musica come uno strumento di aiuto, quindi sia sotto l'aspetto del semplice ascolto, che naturalmente è fondamentale per i bambini, come del resto anche come evasione per gli adulti, ma anche per la pratica strumentale, quindi attraverso la pratica strumentale di ragazzi e adulti per potersi anche divertire in una maniera più costruttiva. E come mettete in pratica la vostra mission? Una delle iniziative iniziali che stiamo portando avanti ancora adesso è il ginagio musicale. Sono dei corsi musicali tenuti da professionisti che appuntano, guidano tutte le persone che vogliono divertirsi, migliorarsi o semplicemente conoscere la musica anche attraverso una produzione strumentale o vocale e quindi diciamo che questo mezzo insieme all'organizzazione di concerti e di seminari ci dà la possibilità appunto di stare vicini alle persone attraverso la musica. Giovanni, cosa fa Panta Musica APS per i bambini, nello specifico? Dunque, mentre per gli adulti e anche per chi ha difficoltà abbiamo anche gli insegnanti di musicoterapia che vanno anche aiutare le persone nell'RSA, per i bambini invece abbiamo dei corsi specifici con degli insegnanti che insegnano non solo da 0 a 6 anni, quindi la fascia prescolare, ma anche alle donne che aspetto i bambini a far conoscere quanto il mondo della musica e il mondo dei suoni possa aiutare nello sviluppo appunto del cervello. Un'ultima domanda, dove si trova l'associazione Panta Musica? L'associazione si trova in via Vecchia Piemonte 83-4 a Imperia grazie all'Istituto Arte che ci ha dato questi locali e si trovano anche nei nostri contenuti sui social, quindi su tutti i social della rete abbiamo anche il nostro sito pantamusica.it dove mettiamo tutte le iniziative appunto sia passate sia quelle che abbiamo in promozione.